Come fare un missile funzionante che viaggia in orizzontale e che alla fine esplode su Minecraft Bedrock Edition I saluti a fine video Immaginiamo che il nostro missile partirà da questa posizione e raggiungerà quella montagna pronta per distruggere Allora, questo è il nostro punto di partenza Andiamo a mettere un blocco di ossidiana Poi andiamo a mettere intorno a questo blocco dei pistoni normali Ok, 1, 2, 3 e 4 Poi metto così Vado a distruggere il blocco temporaneo Mettiamo una leva La attiviamo e sull'estensione dei pistoni andiamo a mettere degli osservatori Poi qui in mezzo mettiamo dei blocchi di gelatina Due blocchi Alle spalle degli osservatori andiamo a mettere 4 pistoni normali 1, 2, 3 e 4 Poi di fronte a questo blocco di gelatina dovremo mettere un pistone appiccicoso Ora ne metto uno temporaneo In questo punto dovremo andare a mettere un osservatore che guarda da quest'altro lato Quindi metto 3 blocchi temporanei Distruggo questi due Vado a mettere l'osservatore che guarda da questo lato Ok, e infine vado a mettere di nuovo il pistone appiccicoso Mi raccomando che guarda verso il blocco di gelatina Ora siamo pronti ad attrezzare il nostro missile con della TNT Carichiamo il nostro missile da questo lato Mettiamo un blocco di gelatina Possiamo metterlo in qualunque blocco di pistoni Io l'ho messo qui a sinistra Poi andiamo a mettere Tridol Tridol TNT 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 Di fronte all'osservatore andiamo a mettere un blocco di pietra rossa Ora siamo pronti ad attivare il nostro missile Ok, prendiamo bene la mira Avviciniamoci alla leva Azioniamola e attendiamo il risultato Vediamo come il nostro missile viaggia verso questa montagna Vediamo se sta funzionando Oddio che sembra di sì Vediamo il risultato La montagna Oddio Anche la nostra costruzione Insomma è un po' pericoloso Però funziona Prima dei saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link di download Delle nostre mappe Minecraft Bedrock Completamente gratuite su Venezia e su Pitagora E trovi anche il link per agganciarti al nostro server Discord E dal nostro server Minecraft Che è sia Bedrock che Java Attraverso i quali abbiamo già avviato contest di costruzione e giveaway Come quelli che realizzo per le scuole italiane Poi se non già affatto iscriviti E fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server Discord E qui sul canale YouTube Detto questo commenta e metti mi piace al video Ma solo se ti è piaciuto Infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco Mentre saluto Mark e Link dal server Discord Che mi hanno chiesto di essere salutati E lo sto facendo in questo momento Ciao 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 Ciao